bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video vi ricordate il video delle staffe vi ricordate che avevo detto di che il prossimo video c'era quello degli speroni beh questo video parleremo degli speroni visto che volevo capire meglio come si dovevano usare gli speroni soprattutto per non fare male al cavallo mi sono informata di più e per informarmi di più sono andata addirittura alla fabbrica dove fanno gli speroni guardate un po' sono qui con Sara della tech stirra Sara ci vuoi parlare dei vostri speroni quali sono le caratteristiche principali dei vostri speroni tutti i nostri speroni così come le nostre staffe sono realizzate in alluminio così sono estremamente leggeri effettivamente sono molto leggeri infatti pesano solo 20 grammi i nostri speroni sono forniti con tre punte intercambiabili si possono facilmente sostituire grazie alla chiave che viene data in dotazione si svitano e si può montare la punta che si preferisce tutte le nostre punte sono arrotondate così da non fare del male al cavallo e ogni cavaliere può scegliere la punta che preferisce da utilizzare quanti tipi di speroni fate noi abbiamo due linee di speroni la linea mylan che è composta da queste tre tipologie di punte e la linea florence che è composta da queste tre tipologie ci sono anche due taglie differenti la m e la l a seconda della taglia del piede e sono disponibili in tutte le colorazioni in cui potete trovare anche le nostre staffe ma questa punta non fa male al cavallo la punta non fa male al cavallo perché è di una dimensione minima e è stata estremamente arrotondata quindi non ci sono punti taglienti che possono danneggiarlo così ho deciso di fare un test e ho provato io direttamente gli speroni sono proprio curiosa di provare questi speroni come potete vedere ci sono passanti per poi mettere l'acetto che potete prendere voi in cuoio oppure in tessuto e lo staccate sono talmente comodi che non si sentono neanche non si sentono neanche Ciao Comodi, non si sono sentiti neanche, sono molto belli Avete visto che belli questi speroni? Allora ve li consiglio Se vi è piaciuto questo video mettete un pollicione in su Ed iscrivetevi al canale e guardate gli altri video Ciao Ciao